Buonasera a tutti, da Pietro Spataro. Rieccomi qua per il mio secondo video di oggi. Allora, questo è il video per quanto riguarda i pronostici della 31esima giornata di Serie A. Allora, voglio dire tutte e dieci le partite. Parma-Torino. Interessante. Juventus-Milan. La sfida tra la zebbra contro il diavolo. Ci sarà da divertirsi domani alle ore 18. Sampdoria-Roma. Attenta Roma, questa non sarà facile ammararsi. Fiorentina-Frosinone. Cagliari-Spal. Udinese-Empoli. Inter-Atalanta. Mamma mia, questa è una partita stupenda da vedere domenica. Lazio-Sassuolo. Napoli-Genoa. E Bologna-Chievo. Allora, partiamo subito con Parma-Torino. Allora, Parma-Torino... Il Parma viene da una sconfitta contro il Frosinone e il Torino viene da una vittoria contro la Sampdoria. Per me la vedo di più favorito il Torino. Io... per me questa la gioco... io giocherei un bel duefisso del Torino. Parma-Torino, due. Juventus-Milan. Io la vedo che la Juventus farà un po' di turnover per la partita di mercoledì contro l'Ajax, il 10 di... aprile. Allora... per me... ha le carte regola per vincere la Juventus. Ronaldo forse non sarà convocato. Allora, i recuperati sono Dybala, Mandzukic e Spinazzola. Mancano ancora altre sei da essere convocati. Però più quello che sta fuori è Cáceres, che si è fatto male dopo il contro il Cagliari. Ma io in questa... in questo pronostico Juventus-Milan metterò un uno fisso. Uno fisso... uno della Juve. Sampdoria-Roma. Sampdoria-Roma per me... Non la vedo una Roma. La Roma si deve rifondare, purtroppo. Però io giocherò una doppia chance. Io metterò un uno X. Sampdoria-Roma, uno X. Fiorentina-Frosinone. Io vedo che la Fiorentina per me possa vincere questa partita. Colge il Frosinone. Per me... tanto il Frosinone è una squadra di serie B, non è all'altezza di Starcina. Io giocherò l'uno fisso della Fiorentina. Cagliari-Spall. Cagliari-Spall... questa è una lotta... una lotta salvezza, diciamo. Io la vedo un... favorito è il Cagliari, diciamo. Ma io giocherò un'altra doppia chance. Io metterò un uno X. Cagliari-Spall, uno X. Udinese-Empoli. Udinese-Empoli, per me... Io non la vedo che l'Empoli vincerà alla Dacia-Arena del Friuli. Per me Udinese-Empoli, per me vincerà l'Udinese. Questo è uno scontro salvezza. Stanno lottando pure loro. Io metterò uno X. Udinese-Empoli, uno X. Inter-Atalanta. Inter-Atalanta... per me è una partita difficile questa. Non la vedo vincente l'Inter, parlandosi chiaro. L'Atalanta esprime un bellissimo gioco. Ci fa divertire tantissimo. Ma in Inter-Atalanta io metterei gol. Per me segneranno entrambe. Metterò Inter-Atalanta, gol. Lazio-Sassuolo. La Lazio per me, dopo un'occasione sprecata contro la SPAL, per me ha le possibilità che vinca la Lazio. Io metterò uno fisso. Lazio-Sassuolo, uno fisso. Napoli-Genoa. Dopo il passo falso contro l'Empoli, il Napoli deve tornare alla vittoria. Io sento che il Napoli vincerà contro il Genoa. Io metterò uno fisso. Napoli-Genoa, uno fisso. La sfida tra il gemellaggio. Bologna-Chievo. Chievo matematicamente è già retrocesso. Il Bologna ha bisogno di punti di salvezza, purtroppo. Per me il Bologna vincerà contro il Chievo. Io metterò uno fisso. Bologna-Chievo, uno fisso. Stop. Questi sono i risultati della trentunesima giornata di campionato. Allora, vi voglio ricapitolare. Parma-Torino, due. Juventus-Milan, uno. Sampdoria-Roma, uno X. Fiorentina-Frosinone, uno. Cagliari-Spal, uno X. Udinese-Empoli, uno X. Inter-Atalanta, gol. Lazio-Sassuolo, uno. Napoli-Genoa, uno. E Bologna-Chievo, uno. Va bene. Spero di avervi detto tutto. Se il video di oggi vi è piaciuto, vi invito di lasciare un mi piace. Di commentare qui sotto. Fatemi sapere cosa pronosticate di questa giornata. Allora, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche per non perdervi altri miei video. Vabbè, raga. Noi ci vediamo fra due giorni per il post partita di Juventus-Milan. E forza Juve! Ciao belli!